Un saluto a tutti gli amici campanari di YouTube. Ci troviamo a Pescia, in provincia di Pistoia, e questo è il Palazzo del Vicario. Allora, all'interno di questo palazzo troviamo una vera e propria chicca, eccola qua, questa campana che, come possiamo vedere dal cartellino, è stata fusa nel 1472. Vediamo se si riesce anche a vedere il nome del fonditore, sempre se sta scritto. Allora, cerchiamo di vederlo... Eh no, non c'è scritto, c'è scritto soltanto l'anno di fusione, 1472. E, guardate, la campana è dotata anche di battaglio, perciò sentiamone il suono. Sentiamo, piano... Un bellissimo re 4. Ecco. E dal Palazzo del Vicario e da Pescia è tutto. A presto da Lorenzo Campanaro 05. Grazie. Grazie.